Il comune di Biceglie dichiara guerra ai nemici dell'ambiente. Continua la lotta serrata dell'amministrazione comunale contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio cittadino. Sono 15 le persone complessivamente sanzionate nell'ultimo mese dopo essere state immortalate dalle fototrappole installate tra il centro e la periferia, mentre si sbarazzavano della loro immondizia in strada, come se nulla fosse. Solo negli ultimi giorni, fanno sapere dal comune, sono stati addirittura 5 cittadini multati dagli agenti della polizia locale, impegnati in una serie di controlli assieme ai dipendenti della energetica ambiente Pianeta Ambiente che gestisce il servizio di igiene urbana. Ad incastrare questi sporcaccioni è stata la loro stessa spazzatura. Dopo aver aperto i sacchetti di plastica recuperati sul posto, gli operatori sono riusciti a risalire, attraverso bollette intestate e altri documenti, ai responsabili dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. E chissà che le sanzioni pecuniari ai quali sono stati sottoposti serviranno a dare loro una lezione di civiltà. Non ci fermeremo e proseguiremo con fermezza e decisione su questa strada, ha sottolineato il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano. Chi inquina e deturpa Biceglie manca di rispetto all'ambiente e all'intera comunità. Questa è innanzitutto una battaglia di cultura e civiltà, una città più pulita e una città più bella e questo sicuramente giova a tutti. Chi si ostina a non capire questo è giusto che ne paghi le conseguenze, ha concluso il sindaco. Per questo andremo avanti con la tolleranza zero.